carissime amiche e carissimi amici buongiorno dal vostro caro giocatellone il vostro grande amico il vostro grande streamer che oggi vi porta fortnite siamo pronti per un nuovo un nuovissimo un nuovissimo campionato ragazzi un campionato dobbiamo cambiare ovviamente il joypad come potete vedere perché questo qua non mi funziona non mi funziona andiamo subito col joypad facciamo in classifica facciamo in vediamo in classifica se posso entrare in classifica andiamo qui in zero build andiamo subito a cercare aggiornamenti li vediamo se possiamo cercare il match gaming la code pina attendiamo attendiamo ricerca partita trascorsi 0,05 secondi tempo residuo simato 0,3 secondi ragazzi per partire con questa incredibile partita di fortnite stiamo aspettando il matchmaking ragazzi pensate potete non stiamo cercando di capire aspettiamo siamo ci stiamo preparando ragazzi per giocare sarà una battaglia veramente epica ragazzi preparatevi preparatevi qui andiamo in zero build video gaming zero build solamente se giochi a fortnite vieni aggiungi se giochi a fortnite vieni anche tu a giocare col giochere lune giochere lune 79 aggiungimi eccomi qua ragazzi subito ovviamente andiamo a selezionare quelli che sono veramente guardate qui ragazzi qui veramente 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 guardate questi che si picchiano ammazzate ragazzi guardate qui sopra guardate lui guardate adesso questo lo devi smettere lo devi smettere di fare dove sei dove sei eccolo qua è lui è lui dove dove sei dove vai dove vai eccolo qua questo adesso basta adesso come ti chiami tu ti piglio ammazzate praticamente vedi che cosa fai non questo non sa giocare ragazzi vedete questo non sa giocare andiamo a correre verso di lui andiamo a correre verso di lui ragazzi non sa giocare lui lui non sa giocare ha qualche problema ragazzi dove vai dove dove te ne vai dove dove va e dove va guardate come se ne fugge dove hai paura guardate ragazzi guardate ha paura paura ha paura e ha voglia a cacciare le ascette ecco qua andiamo subito a giocare sapete ovviamente i grandi giochi grandi le grandi grafiche ragazzi di fortnite andiamo subito ovviamente a saltare andiamo a ringraziare andiamo a ringraziare l'autista subito ovviamente ci dobbiamo buttare questi sono ovviamente che cosa sta succedendo lì il ribellone il ribellone guardate qui sopra come me ne sto cadendo ragazzi guardate pochettino schieriamolo il mitico ombrello vivente vedete ragazzi dobbiamo trovare subito un'arma ragazzi vedete troviamo subito un'arma l'ombrellone l'ombrellone che scende ci fa scendere vedete ragazzi ci gustiamo anche un po il panorama ecco quasi guardate lui lui è subito sceso ragazzi attenzione che questo è ostico ecco qua questo è ostico ovviamente ovviamente non ha capito non è questo appena arrivato appena arrivato praticamente questo proprio ah già sono stato distrutto ragazzi che brutta serie che brutta fine che brutta fine che brutta fine guardate l'uomo banana l'uomo banana voglio giocare ancora vieni a giocare col giocarellone vieni vieni anche tu a giocare col giocarellone vieni vieni aggiungimi ragazzi giocarellone 79 vieni vieni anche tu a giocare vieni 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 andiamo a vedere cerchiamo la prossima partita ragazzi appena appena usciti il questo era quello là che teneva che era che restava prima praticamente vedete ragazzi il bananone vedete vestito a banana la banana blu la banana blu vieni vieni anche tu a giocare vieni vieni ecco qua vedete ragazzi col giocarellone il piccolo bananino praticamente che si trova dietro stiamo aspettando spettatore jacky 20 12 eccolo qua guardate questo lo sta vivendo guardate mamma mia jacky questo è forte questo era forte questo ragazzo questo ragazzo era molto forte ragazzi vieni anche tu a giocare col giocarellone vieni vieni a giocare anche tu a fortemente col giocarellone vieni vieni ecco qua e chiamiamo anche gli altri grandi amici ecco qua ragazzi incredibilmente andiamo a scegliere andiamo a scegliere praticamente vedete ragazzi qualcosa è che che cosa stai chi è che lui è lei è lei vieni qua 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 e qui ovviamente andiamo a scegliere ragazzi andiamo a scegliere dove stai dove vai dove vai dove vai io già ti vado a pigliare ecco qua ragazzi guardate qui sopra vado a pigliare tutto ecco qua e ho preso un'arma Ecco qua, vedete, non ce la fa, non ce la fa Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa Guarda, guarda, guarda come se ne scappa E guarda, pigliate a lui Guarda, guarda come se ne scappa Ha qualche problema Mamma mia ragazzi, che colpi Colpi veramente assurdi ragazzi Colpi a Fortnite, colpi a Fortnite Pronti a scendere, 3, 2, 1 Andiamo a ringraziare il grande amico Praticamente qui sopra, ci lanciamo Ragazzi, guardate che bella visuale Guardate che bella visuale Abbiamo ringraziato l'autista, abbiamo completato L'incarico, facendo distanza percorsa Ragazzi, subito dovete buttarvi Vedete, dovete stare attenti Dovete prendere subito un'arma e poi andare Piano piano che trovate Le armi ovviamente esatte, vedete un pochettino Guardate, quella è pericolosa Vedete che fa, guardate che fa questa signorina Guardate che fa, guardate che fa Questa persona, vedete un pochettino Andiamo ovviamente a scendere, ovviamente a questa parte qua Dobbiamo stare attenti sul campo di battaglia Ragazzi, avete capito bene Andiamo qui dentro Andiamo a cercare di aprire Ovviamente, ecco qua ragazzi Subito, ovviamente subito Col fucilone Andate a correre Ovviamente andiamo a pigliare Qui sopra vediamo che cosa c'è State attenti che possono arrivare anche altre armi Ragazzi, vedete un pochettino Ci andiamo a prendere anche quest'altro fucilone E adesso abbiamo quasi tutto ragazzi Attenzione che potrebbe succedere Veramente di tutto e di più ragazzi Veramente, le pesce che me ne faccio del pesce Andiamo ad aprire quest'altro elemento E qui ragazzi Veramente le cose si sprecano Stiamo attenti Il bottiglione Il bottiglione Unico che cerca di essere Noi se YouTube Will e why you Il Stato 22 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 Mi piace Mi piace quello che sta dicendo Mi piace caro amico Quello che sta dicendo su di me Ti ringrazio Ui strunz Ui strunz Che qua si chiama lui Praticamente ragazzi Quindi dobbiamo ovviamente martellare Praticamente dobbiamo cercare di colpire Praticamente queste parti qua Ovviamente dannose Dove andare Cerchiamo ovviamente di capire Vedete ragazzi Andiamo un nuovo cerchio Nella tempesta Vieni anche tu a giocare Vieni a giocare tu Col giocarellone Se hai coraggio Se hai coraggio Vieni a gettini Prendo di fare la scivolata Andiamo a fare la scivolatuna Ragazzi Vedete un pochettino Oh ma mi sono andato Guarda Ecco qua ragazzi Dobbiamo capire Ma dove siamo ragazzi Dobbiamo capire dove andare Dobbiamo capire che dobbiamo andare Eh ti vuoi alzare Questo sedere Ecco qua Andiamo ovviamente a questa parte qua Attenzione al ghiaccio umano Eh grande 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 Ghiaccio umano Guardate un pochettino Questo per cosa sta succedendo ragazzi Dobbiamo ripercorrere questa parte qua Arrivato Udisco su C'è chi Textless News YouTube Incredibile Veramente grandissimo Il nostro grande amico Che ci fa avere Ben Ben Incredibilmente Tanti Tanti Ovviamente Vedete ragazzi Guardate qui sopra Andiamo Vai qui sopra a saltare Vai ce la puoi fare Grande Grande Vuol giocarellone Stiamo attenti Perché potremmo ragazzi Trovare di tutto e di più Guardate qui Un'arma segreta ragazzi Un super Un super Un super Un super Un super forziere Ragazzi Qui potrebbe essere Una cosa molto brutta Oh ragazzi Ecco qua Perfetto Andiamo a bere questa parte qua Vedete Mi stavo aspettando Mi stavo aspettando Ovviamente Andiamo da questa parte qua Vedete E E Chiappate Mamma mia Povero Pover amico Il mitico Peplex Come si chiama lui Il mitico Peplex Ragazzi Guardate un pochettino Andiamo a pigliarci tutte le sue armi Ci dobbiamo anche curare Dove è il medikit della cura Ragazzi Il medikit della cura Ma in realtà non mi serve Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Perfetto Continuiamo quindi da quest'altra parte qua E dobbiamo Chi è che ho qualcuno che spara? Vi so che qualcuno ha sparato Ragazzi Vabbè Ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua Abbiamo ucciso ovviamente un personaggio Un ragazzo che ovviamente aveva qualche grande difficoltà Come avete potuto vedere Quindi stiamo attenti Ovviamente stiamo attenti Perché dobbiamo mirare alla testa Avete capito bene In questo gioco si mira alla testa Ragazzi Guardate qui la grande scivolata La grande scivolata della giornata Quindi me ne vado per la dire Da questa parte qua Subito Ovviamente il cuore della tempesta Si sta restringendo Ragazzi Stiamo attenti di qua Posseremmo forse arrivare A prendere qualche cosa Dobbiamo cercare qualche arma magica Qualche arma sacra Qualche arma Ovviamente qui sopra E qui dentro Chi troviamo ragazzi Vedete un pochettino Quindi che è questo fucile Fucile a pompa comune Il pomparolo Il pomparolo Praticamente Entriamo Che cos'è qua sotto Ah ragazzi Guardate qui Questo è importantissimo Questo è importantissimo Impulso elettromagnetico Andiamo a prendere questo Ovviamente Perfetto ragazzi Eh signori Stiamo parlando Di grandi giochi Di grandi giochi Ovviamente state attenti Perché questo Qui è stato ucciso qualcuno Ragazzi Vedete Qui è stato ucciso Forse qualcuno Vedete Andiamo Andiamo ovviamente A pigliare qualche cosa Sul balconcino Sul balconcino Ragazzi Ecco qua Di qua Di qua Di qua È una buona Bucatillo Che corri Corri e spara Corri e spara Non mi interessa Ragazzi Non mi interessa Correre e sparare Dobbiamo capire un attimo Dove Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dretti davanti Ragazzi Andiamo Andiamo ovviamente Guardate qui sopra Venite Venite ragazzi A giocare con il gioco Di luna fortnite Se avete il coraggio Di fare il cocco Ragazzi Guardate qui La macchinilla La macchinilla Ecco qua Guardate qui Guardate Impossibile scattare Vai che ce la fai Dove ce la fai Ecco qua Il grande Qui c'è qualcosa Che non mi piace Ragazzi Imboscata Che cos'è la taglia Che cos'è Qua sopra Accogli Che cos'è qui sopra Vedete un pochettino La taglia ragazzi Forse la taglia È già stata data Non ho la scheda Non ho la scheda Ragazzi Dobbiamo prendere Qualche cosa Incredibilmente Andiamo qui sopra Ragazzi Andiamo qui sopra Ovviamente A farci forse il giro Ragazzi Da fortnite Da questa parte qua Col giocarellone Pessena va qui sopra Seguiamo le rotaie Ragazzi Seguiamo le rotaie Brutta brutta situazione Dobbiamo dire Potremmo incontrare Anche il trenino Ragazzi E se incontriamo il trenino Sono problemoni Sono problemoni Siamo attenti ragazzi A questa parte qua Di quasi sale Si corre Vedete un pochettino E stanno ovviamente I nostri amici Sono rimasti Il nuovo cerchio della tempesta Quindi dobbiamo stare attenti Abbiamo la super carica Come potete vedere Grandissimo Ovviamente Ci stiamo dirigendo Verso una situazione Un pochettino particolare E va qui sopra A saltare Non avere paura Non avere paura Qui sopra Che cos'è questo contenitore Ragazzi Guardate questo contenitore gigante Ecco qua Dobbiamo dire Qui Shandai Con Dr. Zombie Z1 Praticamente Si andiamo ad accettare Ovviamente Chi è questa persona Ragazzi Vedete un pochettino Chi è questa persona Che ovviamente Dobbiamo andare a stanare Ragazzi Attenzione Attenzione Perché si trova Si trova forse Da questa parte qua Siamo superstiti Siamo superstiti E quindi Dobbiamo stare attenti Ragazzi Perché qui Potremmo veramente Trovare di tutto E di più Attenzione Attenzione E qui c'è il ragazzo Praticamente Qui c'è il ragazzo Forse Vediamo un pochettino Che si sta muovendo Come potete vedere Fra poco Lo dovremmo stanare Ragazzi Questa parte qui È difficile Elimina All Caps Dove sta All Caps Tutto Il gioco Scrive solo Quei Caps All Caps Ragazzi Purtroppo Però Se abbiamo Se riusciamo Vedete ragazzi A distruggere Ragazzi Possiamo Possiamo Veramente Andare avanti Ragazzi Purtroppo Era a caso Mai Meglio Andare a Pgliare Una macchinina Dobbiamo cercare Una macchinina Ragazzi Stiamo attenti E vai qui sopra A saltare Grae qui All Caps Veramente Impossibile Scaltare Con All Caps Ragazzi Ce la possiamo Fare Ce la possiamo Fare Corri Corri Con noi Guardate un pochettino La tempesta Che sta arrivando Ragazzi È meglio Lisce qualcuno Ragazzi Lisce qualcuno Forse che ci aspetta Sentite E qui purtroppo Non credo di farcela Ragazzi Il cuore della tempesta Vediamo un po' Dove siamo Dobbiamo andare Su quella parte Là ragazzi Quindi là Sarebbe anche interessante Andare a vedere Cosa c'è ragazzi Sopra la montagnella Ecco qua Ci sono solamente 43 giocatori Quindi Veramente assurdo Assurdo Forse qualcuno Si sta nascondendo Là sopra ragazzi Vedete un pochettino Ecco qua Quindi immediatamente Ragazzi Dobbiamo stare attenti Perché io qui Qui vedete un pochettino Che cosa Che cosa Mamma mia Fortissimo È stato bravo 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 Dobbiamo riconoscere È stato molto Molto bravo Devo dire Avete anche preso Queste armi Particolari Veramente Mi è bastato Ricevere alcuni colpi Ragazzi È stato bravo Dobbiamo dirlo Dobbiamo dirlo Ragazzi È stato molto Molto bravo Aspettiamo ovviamente Un'altra grande partita Come potete vedere Ragazzi Qui sopra A fortnite Con il vostro amico Il giocherellone Che ovviamente Vi fa vedere Tito Di veramente Incredibile E fantastici E siamo pronti Ragazzi Per un'ennesima Partita Vi voglio far vedere Anche meglio Vi giro un pochettino Qui sopra La videocamera E siamo pronti Ragazzi È bene Sì È bene Sì Stiamo qui sopra Sono arrivati Visita colone cinestre Ovviamente Andiamo in RT E apriamo questo qua Colone cinestre Ragazzi Eccolo qua Voglio prendermi Voglio prendermi la grande arma Praticamente Qui sopra Abbiamo subito Preso L'armettona L'armettona E guardate qui sopra Ragazzi Incredibilmente L'arma verde L'arma della banana Praticamente Vedete ragazzi E qui sopra Prendo anche altre armi Praticamente Vedete Mi sto Andando fortemente Fortemente A specializzare Aspettiamo gli altri Ovviamente L'albero di Natale Ragazzi L'albero di Natale Che qui sopra Sta arrivando Ma è in faccia In faccia In faccia In faccia Piglialo tutto in faccia Ecco qua Questo qua Questo qua Tutto verde Ragazzi Guardate questo qua Questo qua Che va a ricevere E questa qua Chi è? Chi è questa qua? Questa qua Ragazzi Guardate come la martello Guardate come la martello Quello che si fa fare Questa ragazza Che cosa fa? Che paura Viene a combattere La bacchetta magica Te la faccio vedere La bacchetta magica Un secondo Ecco qua Siamo qui sopra Colline Colline cinestri Praticamente Colone Colonne cineaste Dobbiamo andare Praticamente Quindi dobbiamo fare La colonna cineasta Andiamo a ringraziare Ovviamente l'autista Perfetto Andiamo colone cineaste E subito ragazzi Andiamo a cercare Di salire Venite ragazzi A giocare col giocherellone Venite Venite anche voi ragazzi Venite a giocare col giocherellone Ragazzi Il giocherellone Che vi fa vedere Cose veramente incredibili Ragazzi Qui dentro al mare Vado a finire Guardate un pochettino Qui sopra Stiamo andando Ovviamente a cadere Ce la faremo forse Vedete un pochettino Nord Sud Ovest Est Ragazzi Dobbiamo subito Cadere Ovviamente qui sopra Vedete un pochettino Distruggiamo Questo ennesimo Grandissimo Ovviamente Questo ennesimo Diciamo Coso Ecco qua Siamo all'interno Di questo elemento Ragazzi Qua sopra Subito Via Ovviamente E subito Devi correre Ovviamente A cercare Ovviamente Di prendere Con la pistolina Ecco qua Vedete un pochettino Che ha sparato Ragazzi Qualcuno spara Qualcuno spara Già sta sparando Ragazzi Ecco qua Subito Apri Apri Da questa parte qua Forse da qualche parte Ragazzi Dobbiamo stare molto Molto attenti Ok ragazzi Questa parte qua Questa parte qua Ovviamente con la pistolina Con la pistolina ragazzi Immediatamente Ecco qua Andiamo a pigliare Ecco qua ragazzi Qui Questo qua E sta arrivando Eccolo qua Ragazzi Stanno arrivando Spari Stanno arrivando Spari Da per tutto Da per tutto Ragazzi Io Credo che Me ne debba andare Andiamo ad aprire Ovviamente La porta Vedete Chi è che ha sparato Ragazzi Ha sparato qualcuno Nuovo cerchio Della tempesta Ragazzi E meglio ce ne andiamo Meglio ce ne andiamo Sicuramente Ok perfetto Abbiamo preso Il nostro fucilone E ragazzi Qui dobbiamo anche Capire dove uscircele Perché non crediate Non crediate Che sia tanto facile Perfetto Prendiamo tutti I nostri proiettili Quelli là Che più ci piacciono Ce ne andiamo Praticamente Questa parte qua Dobbiamo cercare Secondo me Un'autovettura Ragazzi Questo qua Vanno Incredibile Ragazzi Incredibile Oh la moto La moto ragazzi E la moto Vai 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 Possiamo anche Sparare sulla moto Ragazzi Guardate qui su Mamma mia Ragazzi Guardate qui sopra Colonie Cineaste Quindi dobbiamo andare Dove siamo ragazzi Dove siamo Dove siamo Non lo so Al centro Ecco qua Perfetto Mi ha fatto vedere La grande La grandissima Oh mamma mia Ecco qua Vai ovviamente Su questa parte qua Vedete un pochettino Colonie Ecco qua Mamma mia ragazzi E qui possiamo addirittura Sparare Possiamo addirittura Sparare Vedete un pochettino Dove ci troviamo ragazzi Dove ci troviamo Perfetto Sempre dritti Sempre dritti Ragazzi Dobbiamo stare a te Oh mamma mia L'albero di limoni Ragazzi L'albero di limoni Andiamo ovviamente Per la Mamma mia Meno male che c'è l'acqua Ragazzi Meno male che c'è l'acqua Andiamocele a praticare Per questa parte qua Dobbiamo cercare Anche qualche altra cosa Ragazzi Venite Venite tutti quanti Ecco qua Vedete un pochettino Il nostro mitico amico Alberi di limoni Ovviamente che arrivano Ovviamente da tutte queste parti qua Ovviamente vedete un pochettino Ecco qua Andiamo a cercare Il nostro caro amico Ovviamente Si trove Ecco qua Guardate 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 Perfetto Uno l'abbiamo forse Acchiappato Mamma mia No 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 Voglio giocare Voglio giocare Ah perché lui Tiene l'arma blu Tiene l'arma blu Ragazzi Tiene l'arma blu Tiene l'arma blu Vedi 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 Val con l'arma blu Questo qua E dove l'ha viata Questa arma blu ragazzi È assurdo Brutte brutte situazioni Acchiappate un'arma blu Questo Vedi 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 Guarda Guarda quello Guarda quello Guarda quello Guarda quello Guarda quello Che è Mamma mia Ragazzi Mamma mia Venite a giocare Venite Vieni 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 vana vana Ciao Ciao vana vana Come sta Vieni a giocare a fortemente Con il giocherellone Vieni Hai paura di venire a giocare a fortemente Con il giocherellone Vieni a giocare a fortemente Con il giocherellone Tieni paura Vieni vieni Ecco qua ragazzi Immediatamente Iniziamo subito a giocare Vieni 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 Vana vana Ecco qua Il mitico vana vana Ragazzi Guarda qua Guarda qua Vado a pigliare subito questa cosa qua Guarda come me ne salto Guarda qua Mamma mia L'ho fatto proprio saltare Guarda Ecco qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Vana 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 Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Ecchiappa le mazzate Questa Ecchiappa proprio le mazzate Questa Uo Chiattoni Chiattoni Bambolone 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 Guarda qua Guarda questo che tiene Mamma mia L'ho girato L'ho girato L'ho girato Mamma mia L'avete visto Vieni 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 a giocare Vieni 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 Dobbiamo andare Dobbiamo andare Da una parte Vediamo un pochettino Vai su a saltare Praticamente ragazzi Subito a saltare Iniziamo a ringraziare Sicuramente Vediamo un pochettino Cosa sta succedendo Qui sopra Incredibilmente ragazzi Super carica 5000 punti esperienza Perfetto Immediatamente Vallo qui sopra Dobbiamo atterrare Sui tetti ragazzi Quindi atterriamo Sui tetti Vieni 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 a giocare Vieni 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 a giocare Non avere paura Non avere paura Di giocare Non viene paura Di giocare Vieni vieni Eccoci qua ragazzi Eccoci qua Sopra al tetto Vai qui sopra Vai qui sopra Mi sono fatto anche male Mi sono fatto anche male Sì ok Perfetto Mi serve un'arma Eccolo qua Il blocco Il blocco di continuità Ragazzi Vedete un blocco Di continuità Qui sopra Abbiamo preso I soldi I soldi Ecco qua Forse E vai qui sopra Vai qui sopra Ovviamente Andiamo a cercare Attenzione a rompere le scale Non rompere troppo le scale Ecco qua Il grande Vanavana Ecco qua Incredibilmente ragazzi Ecco qua Vedete abbiamo Abbiamo i grandi giochi I grandi giochi Vedete un pochettino Qui sopra Andiamo a cercare Abbiamo i proiettiloni Nella cantina Nella cantina Praticamente Perfetto Ce ne possiamo quasi andare Abbiamo trovato Un'arma verde Un'arma verde Quindi ce ne possiamo andare Ecco qua ragazzi Il grande tesoro Lì Ecco qua Andiamo a pigliare Ad aprire Ovviamente Questo elemento Ecco qua Pigliamo tutto Tutte queste cose Ecco qua ragazzi Quindi adesso Dove dobbiamo andare Dove siamo Per prima cosa Dobbiamo andare A destra Colline Cinereste Vieni vieni Vanavana Vieni a giocare Vieni 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 Vanavana Attenzione ragazzi Questa parte qua Qui si cade Attenzione molto molto Dobbiamo stare Molto molto attenti Qui ci sono Ci sono Ci sono Vedete ragazzi Guardate qui sopra E vado a scivolare Qui sopra E immediatamente Immediatamente Quindi dove dobbiamo andare Ecco qua Tana Draconate Tana Draconate E andiamo Andiamo alle Tane Draconate Ragazzi Sarà una grande Battaglia Ah ecco qua Ragazzi Ecco qua E c'è qualcuno C'è qualcuno Vedete ragazzi Di sopra c'è qualcuno Vedete Perfetto Perfetto Ragazzi Dove ce ne stiamo Andando Perfetto Ce ne saliamo Per di qua Immediatamente Quindi andiamo Mamma mia Incredibile 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 Ragazzi Un'arma segreta Perfetto Seguiamo i binari Seguiamo i nostri binari Vediamo se qui sopra Doveviamo qualcosa Attenzione Potremmo trovare anche Brutte situazioni Ecco qua Com'è questo elemento Perfetto Qui sopra Ok Incredibile 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 Iniziamo a seguire Queste parti Grande Federico Ciao Federico Vieni Federico Vieni 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 a giocare Federico Vieni Federico Vieni a giocare Vieni Grande Federico Il grande Federico Ragazzi Qui qualcuno Sta sparando Di stesse del duetto Vedete Un pochettino Ce ne andiamo Quindi seguiamo Le linee dei treni Apriamo dall'arma Avrete preso un banco Modo Perfetto Non ti preoccupare Stiamo andando Ovviamente A questa parte qua Vedete ragazzi Federico È arrivato Federico Vieni a giocare Federico Vieni Non avere paura Vieni 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 a giocare Col giocatore Lone Vieni Guarda qua Guarda 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 qui Guarda 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 50 city car Qui sopra Ragazzi Qui dobbiamo stare Molto molto attenti Buttiamoci anche Nei vari paeselli Ragazzi Dove ci troviamo Dobbiamo Dobbiamo stare attenti Quindi stiamo facendo Il giro largo Ragazzi Vedete Lì ci sono ancora Dei ragazzi Vedete Questi qua Che stanno andando Qui sopra Vedete un pochettino Vedete un pochettino Guardate qui Lì sopra Ce ne andiamo quindi Per queste parti qua Vedete ci stanno Ovviamente Attaccando Attaccando Boom Praticamente Siamo andati Ad investire Andiamo Stiamo andati Ad investire Il signore Praticamente Vedete fra poco Ragazzi Il nostro scudo Il nostro scudo Ragazzi Ci stanno riempiendo Di Di colpi Praticamente Ragazzi La nostra Autovettura Sta andando a fuoco Sta andando a fuoco Ma siamo quasi Arrivati Vieni Federico Vieni a giocare Vieni Federico Vieni Federico Vieni a giocare Federico Ecco qua ragazzi Qui il trenino Ovviamente ragazzi Ma no Mamma mia Mamma mia ragazzi Meno male Meno male Che mi sono buttato Qui sopra Avete visto Meno male Che mi sono buttato Vieni Federico Vieni Vieni a giocare Federico Vieni Vieni a giocare Federico Vieni 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 a giocare Qui sopra Ragazzi Grande Federico Dobbiamo dire la verità Dobbiamo arrivare Qui sopra E vai Qui sopra Perfetto Dovevamo arrivare Ragazzi Ovviamente In questa parte qua La tana La tana La tana Guardate qui sopra Qui sopra Dobbiamo stare attenti Che non ci sia nessuno Ragazzi Imboscate Vari imboscate Ragazzi Andiamocene quindi Da questa parte qua Subito ovviamente Andiamo a imboscare Ragazzi A imboscarci Ecco qua Incredibilmente Incredibilmente Guardate qui sopra E se abbiamo raggiunto Quasi Abbiamo raggiunto quasi Il nostro Il nostro posticino Ragazzi Vedete Tana Traconante Perfetto La tana Traconante Quindi da questa parte qua Ci sarà Siamo attenti Frici danni agli avversari A tana Traconante Non ti preoccupare Non ti preoccupare Grande 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 Sto arrivando A tana Traconante Vieni Vieni Stiamo Attenti Stiamo attenti Ragazzi Perché potrebbe esserci Di tutto E di più Mamma mia Perfetto Perfetto Dobbiamo Dobbiamo stare Molto Molto Attenti Usi Sperar No Mamma mia, che brutta fine ragazzi, che brutta fine ragazzi, che fatto sto ragazzi. Oh, avete visto. Alla prossima 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 Perfecto Alla prossima Allora Alla prossima Alla prossima Alla prossima Questo è Qui è difficile Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Vieni Alla prossima 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 Mamma 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 Non so Amico Perfecto Grande Grande Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Qualcuno Perfetto Perfetto Perfecto Perfecto Alla prossima Bravo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Perfetto Lo scudo Forse Perfetto Mamma Alla prossima Guarda Andrea Andrea Molta paura Qualcuno Qualcuno Alla prossima 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 Gli incarichi Gli incarichi Gli incarichi Ho preso gli incarichi Appliga D'armi Abbiamo 15.000 esperienza Ho fatto Tante cose Provare For tanite l'opero Gioca 4 perfetto incarichi partita e come come posso prendere vi bacca praticamente vi bacca di migliaia i soldi bronzo posizione attuale s3 di bronzo mamma me sono veramente fortissimo tra nove ore singolo coppa della vittoria per la coppa playstation addirittura ci sarà la coppa playstation come faccio ovviamente oggetti marvel oggetti originali ma qualcuno mi regali niente my hero academy addirittura terminator addirittura guarda qua un pochettino terminator e il mio armadietto nullo va bene ragazzi vi aspetto sul canale youtube e twitch del giocherellone venite anche voi se vi piace fortunati agli altri videogiochi e per il resto io faccio due minuti pausa e torno con un altro incredibile videogames vi saluto veramente a tutti ciao a tutti al vostro giocherellone